Uè non fare il tacco incacchiato! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi oramai siamo entrati nell'ultima settimana di questa season numero 10 di Fortnite abbiamo visto tutti che finalmente sopra il razzo del terzo magazzino è apparso il countdown così come è apparso sulla maggior parte delle televisioni in game un evento che veramente si lascia attendere tantissimo e che crea un hype pazzesco in tutta la community di Fortnite molto più degli eventi precedenti perché ragazzi questo evento della season X potrebbe essere qualcosa di unico nella storia di Fortnite Battle Royale sembrerebbe l'arrivo di una nuova mappa, il termine della versione beta del gioco e un sacco di novità che probabilmente non riusciamo neanche ad immaginare prima di poterle vedere ufficialmente in game nel video di oggi ragazzi parleremo di tutte le news dell'evento, vi informerò su alcuni dettagli che è bene che sappiate parleremo anche di una nuova skin per i bot, insomma una cosa un po' più particolare rispetto a quanto avevamo già visto un paio di giorni fa e ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di Fortnite prima però volevo ricordare a tutti che mi trovate ogni giorno in live su Twitch dalle 8 alle 17 e la sera dalle 20 alle 22 volevo ringraziare anche tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xuderone mi raccomando ragazzi iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notizia dei miei video prima però la domandina ci sta per incominciare al meglio la settimana una domandina davvero molto molto semplice ma anche unica nel suo genere qual è la location che non ti piace in assoluto la più brutta della mappa ragazzi secondo me attualmente la location più brutta è Borgo Allegro e già sebbene sia una delle città più grandi della mappa attualmente è comunque sempre disabitata nonostante ci siano anche delle volte in cui l'autobus gli ci passa sopra molti preferiscono l'andare o a rampe o a lande a me sinceramente Borgo Allegro mi sembra davvero una city che non è mai riuscita a prendere piede come dovrebbe ditemi qual è secondo voi la vostra città più brutta qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e mando alle ciance andiamo subito subito a vedere i primi dettagli dell'evento cosa bisogna sapere parliamo ovviamente tutto scritto in inglese cerco di tradurvi piano piano ragazzi quindi dicono quando il countdown sarà finirà sarà pronto la zona la safe zone quindi la tempesta ovviamente si chiuderà intorno ad asti depot che sono i magazzini in questo modo si potrà anche accedere ovviamente per chi non è nel match attuale tramite una ltm dedicata all'evento come sappiamo ragazzi chi entrerà nella ltm in ritardo dovrebbe essere direttamente teletrasportato nella zona dei magazzini sappiamo che tra l'altro in questo in questo momento in questo evento non si potrà killare nessuno non si potranno aprire chest non si potrà farmare non si potrà salire su nessun veicolo non si potranno usare dei consumabili e non si potrà probabilmente neanche usare il piccone quindi totalmente safe non correte nessun rischio di essere chillati da qualcuno che è nella vostra lobby e automaticamente anche voi non potrete killare nessuno ovviamente non si sa bene che cosa accadrà ufficialmente ma andando avanti vediamo che dice now per la parte interessante for the interesting part in nei file relativi all'evento che in realtà si chiama the final impact noi lo vedremo invece chiamato come the end quindi la fine sembrerebbe che nel momento in cui l'evento sarà al suo culmine ci sarà un qualcosa un effetto grafico incredibile che vedrà risucchiare tutti i giocatori nella mappa tutti gli alberi tutte le rocce tutto gli edifici tutti gli edifici e probabilmente verremo tutti teletrasportati nella nuova mappa si ragazzi perché si continua a parlare in incessantemente di questa nuova mappa che dovrebbe arrivare alcuni dicono che verranno solo modificate le location ma non avrebbe senso con l'evento in sé qualora dovesse veramente risucchiare tutto ciò che lo circonda e tra l'altro si potrebbe anche immaginare che il rocket probabilmente crasherà contro il zero point quindi probabilmente o qualcosa a sponde del saccheggio o direttamente col meteorite o addirittura con i rift presenti in cielo e quindi creare appunto questa esplosione questo impatto violentissimo che davvero potrebbe stravolgere tutta la mappa ragazzi una piccola accortezza molto semplice se per caso foste al momento dell'impatto sopra un terreno ghiacciato e appunto scivolaste come sappiamo essere l'effetto dei piedi ghiacciati questo vi verrà tolto automaticamente ce lo dicono giusto così per informarci ma andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi e c'è una nuova cosa che è meglio che sappiate e che sicuramente conferma il fatto che fortnite non è più in versione beta l'immagine alle mie spalle non è casuale ma è una nuova immagine che troveremo nella season 11 relativa al training quindi solo i nuovi giocatori potranno accedere a questa nuova mappa molto più ridotta rispetto a quella che conosciamo che consentirà ai nuovi arrivati ai nuovi giocatori di imparare le basi del gioco abbiamo già delle notizie ufficiali relative a quello che succederà non ci sono ovviamente punti esperienza ottenibili in questa modalità è solo per i nuovi giocatori e non potete accedere con i vostri amici quindi partite in singolo si potrà responare quindi anche se si viene chillati non è un problema e appunto c'è una nuova mappa speciale dedicata tutto quello che si potrà fare e in ordine è guardarsi intorno muoversi saltare abbassarsi cercare anche delle cose in punti indicati utilizzare il proprio piccone cercare un'arma sparare con il fucile a pompa equipaggiarlo ricaricarlo sparare continue onwards potrebbe essere proseguire nel percorso perdere salute e recuperarla difendersi quindi probabilmente nascondersi da qualche parte cercare un forziere piazzare delle scale andare a un forziere uscire da un build quindi probabilmente editing in poche parole devo farlo io questo aprire il forziere collezionarne altri quindi magari ce ne faranno aprire più di uno utilizzare il medikit e gli shield equipaggiare un fucile mirare e sparare ai bersagli quindi un sacco di step ben 25 per questo tutorial che se non ricordo male è presente un tutorial ma solo su salva al mondo in realtà non è mai stato presente nel battle royal tra l'altro ci dicono semplicemente che ci saranno anche delle frecce luminose durante questo training che indicheranno la strada ai giocatori ed appunto eviteranno l'uscita erronea magari dalla zona in cui bisogna fare il training e andiamo avanti con il prossimo argomento perché ecco qua trovata proprio oggi nei file di gioco una nuova skin in realtà ragazzi non è proprio una skin come vedete quello era il corpo questa è la testa la possiamo vedere in game in realtà non ho quale immagine ma l'ho caricata su instagram questa praticamente dovrebbe essere la skin dei bot nella modalità che vi ho appena spiegato e che appunto potranno essere utilizzati per migliorare la mira sparare e probabilmente interagire in qualche modo insomma ragazzi le notizie per questi giorni saranno un po più meno frequenti in quanto stiamo tutti aspettando l'evento speriamo ovviamente che non ci deluda io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando lasciate un bel like e non dimenticatevi che ci trovate anzi che mi trovate sempre in live su e poi ci trovate sempre in live su Twitch ciao